Sabato 7 febbraio 2015, abbiamo di nuovo un'altra nevicata questa notte scorsa e praticamente con la pioggia di ieri pomeriggio la neve si è di nuovo riportata su mezzo metro e adesso sta nevischiando poco, però è proprio un paesaggio invernale adesso non possiamo più dire che è una nostalgia dell'inverno Ciao a tutti!